chi si veste meglio a uomini e donne tra dame corteggiatrici il nuovo numero del magazine dedicato al programma propone una rubrica interessante per chi segue con passione le ultime tendenze moda gli outfit delle protagoniste dello show di maria de filippi possono essere di grande ispirazione non solo per un evento speciale ma anche per essere indossati tutti i giorni con tanto di voti questa selezione a cura di alice grisa permette al pubblico femminile di farsi un'idea su ciò che può andare oppure a contendersi il primo posto sono una dama e una corteggiatrice gemma galgani e federica versano entrambe hanno azzeccato con i loro rispettivi look e hanno preso un 8 come voto la dama torinese preferisce un outfit green and chic ispirandosi a un colore molto amato negli ultimi anni il verde oliva lo sceglie come chiave per affrontare il mondo indossa una giacca oversize pantaloni capri e un paio di decolleté color crema come accessorio opta per un mono sfoggiando questo outfit da sempre in tendenza gemma pare voler dare un anticipo di ciò che si indosserà in primavera e fa benissimo unisce così eleganze ed è sebbene con questo tipo di look non si sbaglia mai marica geraci prende solo 6 con il suo outfit la dama siciliano sceglie di abbinare pantaloni a sigaretta con una blusa bianca corta caratterizzata dalle maniche barocche e accessori minimal le decolleté nere sono una garanzia e confermano l'eleganza classica del suo look la giornalista però precisa forse poteva osare di più stesso voto lo prende ida platano che ha anche rilasciato una sua intervista su uomini e donne magazine lei opta per un top di piume un paio di pantaloni camouflage dallo stile vagamente boho che però si sarebbero sposati meglio con un altro tipo di look gli stivaletti color cammello sembrano poi non essere azzeccati con l'intero outfit infine in linea con gli insegnamenti di coco chanel si contende il primo posto federica versano la giovane corteggiatrice di matteo ranieri ha ormai attirato l'attenzione su di sé porta con sé un grande bagaglio di vita e spesso lo fa presente quando la sua eleganza non è passata inosservata agli occhi attenti dei telespettatori e in effetti fanno bene a ispirarsi ai suoi look per chi ama il mondo total black questo è indubbiamente l'outfit perfetto la corteggiatrice opta per un look classico ma d'effetto per prendere parte alla puntata indossa pantaloni e crop top nero formando così un effetto sensuale e sofisticato non esagera ed è decisamente perfetto